Allora, cosa succede? Le denunce che ho fatte, perché io come potete vedere se si riesce a mandare in carriera, ho fatto una denuncia innanzitutto alla procura di Roma, che è il corso, il fascicolo, che spero che si arrivi a una contestazione, che cosa dice questa denuncia? Questa denuncia dice che siccome a Torpella aveva bisogno dell'automizzazione della Banca d'Italia, cioè dell'avvicinarsi per essere acquistata da molte dei maschi, e secondo la legge la Banca d'Italia doveva verificare che l'operazione fosse corrispondente a sana e potente gestione, che cosa è avvenuto? È avvenuto che la Banca d'Italia ha rilasciato questa autorizzazione attestando la buona, sana e sana e potente gestione di questa operazione. Quando si va di bene? Sapeva benissimo che a Torpella era praticamente in default e non valeva niente. Io ho prodotto a Roma una relazione spettiva della Banca d'Italia, un po' il tempo prima della autorizzazione con attestazione di un'operabilità, che appunto diceva proprio questo, e che diceva guardate tutti gli indici sono negativi, il personale, il portafoglio, il patrimonio, e poi c'era già lì due miliardi di erotti di credito, di errati, una macchina, una banca d'Italia, e tutte queste cose, e l'unica cosa finanziaria buona, c'era la divinità finanziaria, perché c'erano i sette miliardi in mezzo che gli avevano dato una designa e si sopravvivano così, sicché loro sapevano che non valeva niente, non potevano attestare che corrispondeva sana tutente gestione, non potevano attestare che era, diciamo così, sostenibile un affatto, per cui l'autorizzazione è falsa, contiene un falso, un altro dubbio, e abbiamo fatto questa denuncia e spero che possa andare avanti. Di queste cose, io ho i documenti, io la denuncia non la posso vedere, ma la relazione risulta che non valeva niente, quella che non la posso dare, così come le norme di legge impongano alla banca d'Italia di fare questo controllo, per cui è un controllo più obbligatorio, perché senza l'autorizzazione non si può comprare niente. E questa è la prima cosa che mi sembra pazzesca, perché è stata l'inizio della rovina, perché ha comportato una perdita di 17 miliardi secchi, che è una firma enorme, perché sono 34 mila di armi di vecchi aere, perché naturalmente in Monti Baschi, tra l'altro, in due momenti non ha tornato.